ciao ciao a tutti e bentrovati sul mio canale veri ASMR grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante per chi non mi conoscesse io sono Federica e quello che state per vedere è un video interamente dedicato al suono della tastiera per l'occasione ho deciso di utilizzare questa triggerosissima tastiera luminosa che a dire il vero l'avevo acquistato molto tempo fa ma che ha impiegato un bel po' ad arrivare e ho visto che nel frattempo anche qualcun altro all'estero credo ha realizzato un video del genere ma oggi ve lo ripropongo io in italiano spero che vi piaccia se è così mi raccomando lasciate un mi piace e soprattutto se non siete ancora iscritti al canale potete farlo cliccando la campanella per non perdere i prossimi video rilassanti durante questo video vi darò anche un annuncio bellissimo, spettacolare, meraviglioso, fantastico quindi tenete le orecchie ben aperte anche perché gli occhi vi si chiuderanno entro poco indossate le cuffie per ascoltare meglio il suono binaurale da orecchio a orecchio e se già se lo permette iniziamo eccoci allora intanto inizio a scorrere un po' le dita già si sospira su questa fantastica tastiera perché prima di premere i pulsanti voglio assolutamente annunciarvi una notizia bellissima come sapete ho lavorato per un bel po' di tempo a diversi progetti e uno di questi si è appena realizzato e riguarda la ASMR non vedo l'ora di potervelo presentare in un video ecco una domanda per voi oltre a scrivere al computer vi piace ancora scrivere sulla carta? oppure vi piace organizzare le vostre giornate? oppure vi piacciono le esperienze ASMR interattive? pensate di avere bisogno di un po' di saluca? se la risposta ad almeno una di queste domande è sì allora credo che tu apprezzerai e vorrai assolutamente il diario agenda ASMR eh sì finalmente esiste un diario agenda interamente dedicato alla ASMR sarà un diario interattivo te ne parlo adesso ma potrai acquistarlo se vorrai nei prossimi giorni quindi questo è uno spoiler so per chi vede questo video sarà pieno, 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 pieno di sorpresi veramente è un progetto a cui tengo tanto e che userò in prima persona mancava una cosa del genere avevamo un diario di spiderman ma non abbiamo un diario agenda asmr e allora ci ho pensato io questo diario agenda contiene anche tanti tanti consigli ed esercizi è veramente personalizzabile ma insomma lo vedrete presto è il momento di fare un po' di silenzio e di ascoltare il suono per il quale avete probabilmente aperto questo video ed è tutto per voi è tutto per voi è tutto per voi Grazie a tutti Grazie a tutti è tornato Jesse io penso che si possa sentire il suono della corrente in sottofondo che fa sì che le voci di questa tastiera siano accese non lo so spero che nell'insieme sia tutto comunque rilassante grazie a tutti 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 grazie a tutti